Sono Angela e ho un figlio. Per curarlo servivano tanti soldi. Ho sempre dato il meglio a mio figlio. Continuava a farlo anche senza un lavoro. Era un gioco. Poi quelle macchinette sono diventate un'ossessione. Quando non ho potuto più pagarlo, non ha sentito ragioni. A tutto questo abbiamo detto... Basta! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.